Tragedia a Cava dei Tirreni, drammatico incidente stradale intorno alle 7 del mattino in via Arti e Mestieri, nel rione Sant'Anna. A perdere la vita il 35enne cavese Michele Avella, l'agente scelto della Polizia di Stato, lavorava da pochi mesi al commissariato Metelliano. Era a bordo della sua moto di grossa cilindrata, procedendo a velocità sostenuta, quando, secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, per evitare un camion fermo sulla carreggiata, ha invaso la corsia opposta, perdendo il controllo del mezzo e finendo con violenza contro un'auto parcheggiata vicino al marciapiede. Il 35enne è morto sul colpo, inutili i soccorsi dei sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso. Sul posto per i rilievi del caso e i carabinieri della locale tenenza, i militari del reparto territoriale di Nocera Inferiore, gli agenti della Polizia Locale e i vigili del fuoco. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, sarebbe emerso che il camion fermo in strada, dopo l'incidente, è andato via senza prestare soccorso. Dolore e lacrime a Cava dei Tirreni, dove Michele Avella, marito e padre di una bimba di soli due anni, era molto conosciuto e amato, un grave lutto condiviso anche dai colleghi del commissariato di Cava dei Tirreni.